Noi siamo nei guai e lo riconoscono tutti. Come uscire dai guai non tutti la pensiamo nello stesso modo. C'è chi ritiene che uscire dai guai basta darsi una formula magica da teatro e purtroppo pochissimi indicano la strada, quella difficile, come si dice classicamente, di lacrime e sangue pur di ottenere un risultato che dobbiamo ottenere. Non abbiamo molto tempo, non abbiamo molto tempo, abbiamo pochissimo tempo perché le nostre riserve oltre che economiche e anche morali sono all'omicino. Quindi è importante che si decidano delle cose importanti oggi.